Ciao creatura Io sono Ecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai A-S-M-I Mettiti comoda creatura perché oggi ti racconterò una mia avventura fa rima tra l'altro con creatura è stata una rima involontaria e ti racconto una mia avventura che è stata proprio letteralmente un'avventura perché noi non ci immaginavamo questo mia sorella ha letto di una storia che è stata anche comunque che adesso andiamo a leggere insieme su Google perché è meglio letta che raccontata e poi ti racconto e iniziamo proprio il vero il proprio story time però ti devo fare appunto un'introduzione giustamente alla vicenda del perché è successo tutto questo e quindi metti di comoda che tra poco iniziamo mettiti le tue cuffiette scegli un luogo tranquillo straia, ti siediti metti di comoda e adesso iniziamo se vuoi anche voi chiudere gli occhi se no metterò anche delle foto se vuoi aprirli magari ti avviso allora mia sorella è venuta a conoscenza di questa storia Marostica ha accolto nel 2023 nell'ottobre del 2023 una nuova particolare scultura gigante si tratta di Pigrotto 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 il cane a sei stampe creato da Elena Xausa scusate ho sbagliato pronunciare il cognome che non so come si pronunci è posto su una collina vicino al castello superiore in memoria dell'illustratrice scomparso a novembre 2022 un volo in elicottero con Pigrotto che dalle nuvole scende nella magica palletta sotto le mura scaligere in quella Marostica tanto amata in vita dalla giovane e talentuosa illustratrice Elena morta per un cancro all'appendice a soli 38 anni è una tra le creazioni a lei più care un piccolo cane di Greta a sei zampe realizzato a quattro mani con il marito Lorenzo fonda durante una breve piovosa vacanza in una località di montagna nei pressi di New York è diventata una gigantesca scultura che abbraccerà al centro un gin gin con pilopa la sua pianta preferita e quanti vorranno provare un'esperienza a contatto con la natura su più vitale in questa terra ricca di storia grazie a un'opera di crew funding e alla collaborazione della città di Marostica e dell'organizzazione non profit compagnia delle mura adesso questa gigantesca trasposizione di pigrotto è al suo posto per celebrare l'amore per la vita e la creatività di quest'artista perché ricordare Elena significa non dimenticare cos'è la fantasia non spegnere la luce dei colori e dei sogni ecco quindi mia sorella ha visto su TikTok che c'era appunto questo cane a sei zampe che ricordava molto quello della della storia infinita ricordava molto Falcor che sarebbe un fortuna drago però aveva tipo se chi ha visto la storia infinita aveva il musetto da cane ecco sembra un po' un cane però un drago un cane a noi ha ricordato molto quello e mia sorella aveva detto no dobbiamo andarlo a trovare dobbiamo trovarlo e quindi non avevamo molto capito in realtà che era messo una montagna dei boschi e roba del genere avevamo più capito che era un parco ecco non aveva molto capito dove fosse per quello dico un'avventura perché siamo siamo arrivate a Marostica io e lei da sole siamo arrivati a Marostica in macchina e ha messo sul navigatore la località e in pratica ci siamo accorti che avremmo dovuto fare un bel po' di salite con dei tornanti no e ci siamo guardate così guardando il navigatore abbiamo detto ok considerando che mi sono all'app non l'app la macchina app scritto up insomma eravamo fatto tutto in prima ma non importa siamo arrivati a un parcheggio che è anche il bagno chimico e c'era proprio la il sentiero diciamo che era a mezzo un boschetto ci poteva fare il sentiero quello un po' più ripido abbiamo fatto qua quello un po' tra virgolette normale perché comunque era a fare le compesse io quindi immaginate proprio le scarpe adatte per la montagna mi dicono e insomma siamo arrivati proprio su in cima dove c'è il castello abbiamo fatto questo sentiero un po' così non proprio lineare diciamo ecco non eravamo di certo in campagna e con le già io cado in campagna con le conference figurati in montagna ma dettagli perché mia sorella continuava a dire ma non avevo capito che era in mezzo a tutto questo pensavo fosse un parco vabbè e e perciò non c'era nessuno forse perché a fine agosto non lo so mia sorella ce l'avevo davanti che camminava mi ha detto per fortuna che sei venuta anche tu perché se ero io da sola mi insomma avevo molta paura avrei avuto molta paura perché da sola insomma qua non c'è nessuno se mi succedeva qualcosa nessuno mi trovava anche perché se non lo diceva lei partiva e andava nessuno sapeva dove perché non aveva capito che era così la situazione comunque mi ero portata lo zaino con tramezzini acqua una coperta un telo insomma era un copritivano da mettere per terra per fare perché volevamo fare i picnic e insomma abbiamo fatto questo bel sentiero come prima cosa si trovava questo cartello con scritto caro visitatore pigrotto ti dà il benvenuto accedi e interagisci con questo sito a tu rischio e pericolo ma usalo liberamente dandogli vita e godendo di ciò che offre rispetta sempre e fai rispettare da chi ti accompagna il suo significato e il lavoro di chi l'ha immaginato e opera per mantenerlo come l'hai trovato già è una buona premissa lì quel posto lì era bellissimo perché aveva mi piaceva troppo che c'erano questi tronchi di alberi che sembrava formassero come un tavolini e sedie poi c'era questo fico quei fichi maturi che continuavano a cadere facendo un rumore che io dicevo così a questo rumore poi mi sono accorda che erano le foglie fichi che cadevano perché eravamo solo i miei sorelle in mezzo a niente e quindi avevamo un po' l'ansietta che spucasse fuori qualcuno da nulla non so sarei chile e poi ho fatto una serie di foto anche a mia sorella e lei me ne ha fatte a me che comunque pubblicherò su IG forse le vere già visite su IG e un po' fantasy così ricordava molto la storia finita andando dal nostro punto di vista e questo qui è bigrotto bellissimo e mi ci sono arrampicata sopra perché volevo le foto sopra perché sembrava troppo fortuna trago chissà se mi porterà fortuna davvero queste delle belle foto mia sorella sopra mi ha detto indica così indica così e vai sembrava anche se il cane sta dormendo ma noi vincevamo che fosse le falcor insomma insomma e poi abbiamo fatto appunto il il picnic ho mangiato io ho mangiato un tramezzino pollo e peccolo proprio e lei il contrario ha preso un tramezzino vegano siamo sorelle ma siamo completamente gli opposti e poi qui c'era in meno memoria di Elena 1984 2022 e la poesia vediamo se riesco a leggerla dorme picrotto vicino al castello veglia su chi si avvicina al suo vello dorme picrotto nel suo lungo abbraccio cercalo quando ti senti uno straccio quando la vita ti sembra lontana tra le sue zampe puoi farti una tana nella pelliccia può accogliere tutto può consolare il tuo cuore dal lutto il suo respiro somiglia alle fusa soffia un segreto di pace di fusa una carezza che è più di un consiglio lasciati accogliere nel suo giaciglio Elena dorme tra queste colline gli occhi assubiti le mani vicine Elena dorme nel mondo di sotto sopra di lei va da guardia picrotto Elena è forte non ha più rivali con il sorriso ha lottato i suoi mani Elena è grande più grande più grande di tutti non c'è più il ramo ma restano i frutti questa creatura ne canta la vita l'anima bella di quella matita questa creatura è figlia di quanti l'hanno perduta ed erano tanti la celebriamo con questo gigante possa restare ben oltre l'istante possa abbracciare il presente il futuro possa far luce sul giorno più scuro possa ricevere tutta la gente possa ispirare nei giorni di niente possa scaldare nei giorni di gelo possa aiutare a comprendere il cielo possa fogliare la pianta del cingo possa risplendere come lo zinco passano i giorni e passa il dolore dormi pigrotto nel bianco candore dormi anche tu riposa e prosegui la vita ti sfugge se non la insegui bellissima te la dovrei aver messa qua e bella mi è piaciuta troppo questa cosa non ne sapevo niente quindi a volte anche cioè tiktok che viene usato anche per tante cavolate ma quando ti fanno scoprire queste cose è sempre molto bello no? e quindi dopo siamo rimaste lì ci siamo fatte un po' di foto poi abbiamo fatto appunto il picnic siamo rimaste un po' lì così c'era tanto caldo e c'eravamo solo noi così abbiamo deciso di andare a fare un giro a Marostica e purtroppo la la piazza era chiusa cioè si poteva entrare però probabilmente dovevano farci qualche concerto e perché avrei voluto vedere la piazza perché mi hanno detto che appunto c'era questa la piazza è composta da una mega scacchiera e con gli scacchi giganti di plastica fanno i tornei non lo so comunque diciamo che l'ho intravista senza scacchi solo con la scacchiera però c'erano appunto tutti questi seggiolini e avevano fatto una specie di arena con tantissimi seggiolini e vabbè l'abbiamo vista bene ci ritorneremo perché è stata comunque una una passeggiata bellissima un posto bellissimo non sapevo che fosse una città murata c'erano proprio i muri il castello poi sono entrata in alcune chiese così perché stavamo passeggiando non c'era niente c'erano tutti i bar chiusi e quindi a una certa decidiamo di tornare a casa saranno state le tre o così del pomeriggio che siamo pareti al mattino presto presto non tanto presto è stata verso le undici perché avevamo quel luogo di lavoro quindi vabbè siamo siamo partite da Marostica e sui cartelli stradali mia sorella notta ma Bassano qua vicino 8 km allora mi guardo e faccio andiamo a Bassano ora siamo andati a Bassano a me mancava la foto sul ponte ce l'hanno tutti effettivamente io non ce l'ho e quindi mi sono fatta la foto sul ponte però tutti si facevano la foto sul ponte sullo stesso punto io ho detto no io voglio che si vedano proprio gli spari sulle case vabbè non so credo non credo che pubblicherò quella foto comunque ho fatto un po' di foto anche al paesaggio così bellissimo c'erano state nuvole sembrava un dipinto poi questo telefono fa delle fotomatiche guarda questa foto è bellissima sembra un dipinto sembra neanche reale quasi da quanto era era bello il paesaggio e le nuvole il cielo tutto era perfetto stavo crepando di caldo ma non importa quello è un altro discorso e poi abbiamo trovato che lei in realtà a Bassano ce l'ha stata varie volte sapeva già dell'esistenza di questo negozio io non ce l'ho mai andata quindi ho detto sì sì andiamo un negozio di vinili fichissimo c'è la vetrina foto la foto c'è un te penne che mi piacciono vinili del muro per esempio dei site vabbè e quindi dopo sono entrata siamo rimaste lì tipo un'ora non uscivo bisogna uscire facevo finita di non trovare l'uscita in realtà perché lì vogliavo guardare tutto c'erano anche i DVD avevo trovato in conferenza di Twin Peaks a 31 euro perché l'ho riguardato e finalmente sono riuscita a vedere l'ultima stagione che è stata veramente totalmente no sense bellissima comunque perché ci sono di nuovi personaggi ma non voglio spoilerare a chi non l'ha mai visto e tranne l'ultima puntata che non riuscivo a stare sveglia e insomma ero dentro a questo negozio non riuscivo più a uscirne perché avevano anche dei vinili si è svegliata la vicina avevo anche dei vinili avevano dei vinili black metal o comunque di band che piacciono a me che di solito non ci sono mai nelle cose invece lì avevano praticamente tutto 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 anche se non c'era il mio vinile di Bulsum edizione limitata che ho preso un mercatino dell'usato tra l'altro praticamente regalato perché il tizio che aveva i vinili non sapeva cosa aveva però vabbè i dettagli e a fare problemi suoi non mi è io ho fatto l'affare e comunque sì abbiamo fatto poi un giro per Bassano anche e poi le ho offerte un prosecco in un posto carino che vabbè era un po' in pendenza e il mio scapello mi sembrava di cadere precipitare ruzzolare giù però mi sono attaccata come ho potuto mi ha fatto ridere questa cosa io creavo molto stabilità in generale vado a sedermi proprio in quei posti a questi scapelli vabbè e il prossigoro è molto buono bello fresco bello buono insomma infatti perché a volte ho la sfortuna di trovare magari dei bar dove il prosecco non è granché e dopo mi viene un mal di testa fotonico invece no è stato proprio dopo quel tramezzino al bacon e pollo che è il mio preferito per Lidl 1,39 euro ci stava il prosecchino che poi in realtà in macchina ne ho mangiato un altro perché mi ero presa anche quello al salmone ma i dettagli con il pane integrale io mega carnivore adesso per vecchi far ridere sta cosa comunque è stata proprio una piacevole giornata così perché mia sorella era in ferie e quindi abbiamo appunto deciso lei ha detto io vado anche da sola però è stato più bello andare in compagnia anche perché se succedeva qualcosa intanto non sarebbe riuscita a farsi le mega fantastiche foto che le ho fatto da sola cosa faceva le ho fatto ma anche una foto quella polaroid che lei ha la macchina polaroid che stampa subito la foto proprio polaroid ho fatto una foto bellissima e io ho questo super potere che faccio delle foto stra stra belle insomma e tutti magari stanno lì mezz'ora in posa io zic foto fantastica cioè è un super potere credo grazie alla mia visione diversa degli altri che ho metto in posizioni strane per fare le foto cioè lascio che la persona sia spontanea e sono io che mi sposto ecco quello è perché sennò non sarebbe perché lo scatto fotografico cogli l'attimo no immortalale il momento e quindi se ti metti in posa perdi proprio l'essenza di cos'è la fotografia dal mio punto di vista quindi io lascio che la persona faccia stia ferma stia tranquilla o che stia facendo qualcosa e e la la fotografo tipo quando ho visto lei che stava puntando il dito in alto dicendo guarda si vede dopo la tolto e ho detto no no rifallo perché era bellissimo e insomma quelle cose lì come massimo di possa posso fare questa cosa qui per il resto io le faccio molto spontanee le foto infatti escono sempre molto belle al di là che ho fatto che ho studiato fotografia a scuola ma le faccio con il telefono quindi quello non c'entra due anni fotografia ho fatto ho lavorato nello studio fotografico ma quello non c'entra è un mio superpotere ok e e niente poi dopo siamo tornate a casa è stata veramente una bella avventura mi piacerebbe ri ri andare all'avventura così in posti dove dove stiamo andando chi lo sa quel che troviamo troviamo senza organizzare la gita capito magari ti porti via il minimo indispensabile come acqua e cibo perché magari ritrovi tutti i posti chiusi e dopo non puoi bere oppure hai messo al bosco come è successo a noi e dici oh e adesso avere quelle cose lì fondamentali per la sopravvivenza e dopo quello che succede succede bellissimo stupendo adoro questa tipologia di avventura che poi a me succede anche normalmente uscendo di casa perché mi perdo oppure me ne succede sempre una quindi infatti ero tranquilla perché appunto tanto anche solo uscendo di casa io vivo delle avventure quindi come pensai che ti ho raccontato diversi story time durante il nostro soggiorno a Gozai nel regno di Gozai e non c'è molto altro da raccontare più che altro sento i vicini che iniziano a agitarsi quindi preferisco chiudere qua il video spero che comunque questa storia ti abbia rilassata e se vuoi saperne di più puoi cercare su google bigrotto e lì apri tutte le informazioni conoscevi già questa storia io l'abbiamo conosciuta grazie a tiktok spero di conoscere altri posticini così noi io tempo fa con mia sorella andavamo anche alla ricerca di graffiti di quelle che nessuno è mai riuscito a fotografare oppure poche persone qua in zona riuscite a fotografare quindi andavamo in posti tipo abbandonati rischiando dopo aver visto tutti quei film oro rischiando la bellaggia però abbiamo sempre trovato quindi è sempre stato molto bello emozionante vabbè spero che questo video ti sia piaciuto come sempre lasciami un bel like ti incoraggiami non che sto vi lasciando prima ma sarei già addormentato dopo del primo accidente vabbè è andata così e grazie per essere stato il mio compagno anche questa sera ti auguro buonanotte buon relax ciao crea dura Grazie.